Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Legato alle emissioni di carbonio. Questo tipo di dati probabilmente l'avete visto. Insomma c'è un fortissimo aumento delle emissioni di CO2 negli ultimi decenni a fronte di una relativa stabilità o comunque oscillazioni ben controllate nel corso di centinaia e migliaia di anni precedenti che si porta dietro a un aumento della temperatura. E nonostante questa situazione insomma noi continuiamo a immettere CO2 nel sistema senza pietà. Allora giusto per guardare qualche numero questa è la distribuzione di emissioni di anidride carbonica dovute alle varie attività umane e quello che si vede molto bene è che gran parte delle emissioni sono in realtà correlate, diciamo due terzi sono correlate al tema dell'energia. Allora dove voglio andare a parare con questo discorso? Abbiamo visto abbastanza chiaramente nel passato l'hanno detto in più che il sistema energetico a livello terrestre è un sistema aperto. Allora diventa difficile parlare di circolarità quando abbiamo i sistemi energetici e vedremo dove riusciamo a parlare di circolarità. Un po' l'ha mostrato il professor Reini con il tema dell'exergia e dei principi costruttali ma quello che secondo me diventa molto interessante a livello di economia circolare è considerare la CO2 come il prodotto del processo di produzione dell'energia. E quindi la circolarità deve un po' concentrarci più che altro sul tema della CO2 più che sul tema del recupero dell'energia perché il recupero dell'energia è effettivamente un problema grosso, difficile. Giusto per capire alcuni link che ci sono tra il tema della circolarità e il tema dell'energia voglio un attimo chiarire il concetto di energy supply chain. L'energia supply chain è una cosa che per noi in realtà è abbastanza familiare concettualmente. Vi faccio l'esempio del tema dell'energia elettrica. Noi abbiamo tutti a casa tutta una serie di appliances, di dispositivi che funzionano con l'elettricità ma da dove arriva questa elettricità? Tipicamente tutto parte dall'estrazione di un qualche combustibile fossile. Per l'elettricità si usa moltissimo il carbone, ancora l'abbiamo detto, il carbone viene bruciato e poi l'elettricità così prodotta viene distribuita. Questa è così molto semplificata l'energy supply chain della parte elettrica della nostra energia. Bisogna ricordarsi che non sempre le miniere e il carbone sono un posto pulito. Energy supply per il trasporto, tipicamente parte con l'estrazione del petrolio, il petrolio viene trasportato, non sempre le cose vanno bene, poi il petrolio viene raffinato e distribuito, cioè i vari prodotti petroliferi vengono distribuiti per le nostre automobili. Oppure un'altra supply chain è quella per l'energia termica, tipicamente parte con l'estrazione di gas, poi abbiamo o navi gasieri oppure oleodotti, non sempre gli oleodotti però sono di libero accesso perché passano attraverso paesi spesso critici e poi il gas viene utilizzato direttamente nelle nostre case. Insomma quello che vi dovete portare a casa è che l'energy supply chain in realtà ha una struttura di questo tipo, ci sono una serie di possibili fonti, una sede di trasformazione dell'energia, gli ingegneri parlano di produzione anche se ovviamente i fisici rabbrividiscono da questo punto di vista, poi abbiamo stoccaggio e distribuzione e usi finali. Quello che è chiave in questo grafico è che ci sono sempre a tutti i livelli delle perdite. Allora diamo un po' di numeri, questa è l'energy supply chain degli Stati Uniti per esempio, questa è quella del 2008, me la mostro apposta, ve la commento brevemente, vedete ci sono tutte le fonti a disposizione, come vedete le fonti fossili la fanno da padrone, poi ci sono tutti i flussi energetici che vanno ai vari utilizzi e sono utilizzi di tipo residenziale e commerciale, utilizzi di tipo industriale e questa è forse la cosa che interessa magari più di tutti oggi, no? Questo è un numero un po' da ricordare, circa il 23% dell'energia, diciamo così, qui era negli Stati Uniti, ma insomma circa un quarto dell'energia resa disponibile viene utilizzata per fini industriali e poi un altro quarto circa per i trasporti. Ora, quello che voglio farvi vedere è che qui c'è una roba in grigio chiaro, Rejected Energy, questa è l'energia che è resa disponibile a monte, ma che non utilizziamo, che non siamo in grado di utilizzare. Queste sono le famose perdite di cui vi dicevo, che come vedete sono estremamente importanti, se facciamo 100 il totale, qui più o meno, insomma siamo a 99, Rejected Energy è quasi, diciamo più di metà, d'accordo? Uno dice, sì, vabbè, però questo era il 2008, vabbè, saranno migliorate le cose, se guardiamo il sistema statunitense nel 2017, più o meno siamo alla stessa situazione in termini di consumi globali, Rejected Energy è salita a due terzi. Ok? C'è qualcosa che non va. Un paio di cose che voglio sottolineare è che questa Rejected Energy viene primariamente dal modo in cui produciamo elettricità e dal modo in cui produciamo energia per i trasporti. Ok? Queste sono le fonti di maggior perdita. L'industria si comporta non benissimo, però un po' meglio. Comunque circa il 50% dell'energia che acquisisce l'industria non è in grado di utilizzare, di renderla come energia utile. Ora, su queste riflessioni, ecco, questo è il primo link che volevo fare col tema dell'energia immersa in un concetto di economia circolare. Recuperare questa energia purtroppo è estremamente difficile, proprio per i motivi che in molti hanno accennato oggi. Quindi chiudere questo circolo è marginale. Ci sono un sacco di tecnologie che fanno energy harvesting, recupero energetico, ma purtroppo sono e sono destinate a rimanere marginali, per motivi proprio termodinamici. Quindi dobbiamo fare meglio su altri fronti. Il tema del recupero qui è limitato. Adesso, beh, non ho tempo per farvi questa cosa che io trovo molto divertente, però il punto è questo. Essendo che le perdite sono dell'ordine del 50%, ogni unità che noi risparmiamo a valle, quindi a livello per esempio di end user, ogni unità si traduce in due unità risparmiate a monte. D'accordo? Quindi il tema del risparmio energetico, cioè della riduzione della domanda di energia, è il tema numero uno. Questo lo vediamo anche per esempio in questo grafico, molto simile a quello che ha mostrato il collega che mi ha preceduto. Se noi vogliamo mantenere a circa 450 ppm la concentrazione di CO2 nell'atmosfera, che peraltro incidentalmente è già più alta di quella che abbiamo oggi. Quindi ci accontentiamo di qualcosa che è peggio di quello che abbiamo oggi. Se vogliamo riuscire a mantenere questo scenario, rispetto a uno scenario business as usual, dobbiamo assolutamente colmare questo gap in termini di riduzione dell'immissione di anidride carbonica. E come possiamo farlo? Allora, tutti gli analisti concordano su questo, cioè possono variare leggermente i numeri, ma il punto numero uno è circa metà di questo gap che dobbiamo colmare viene dalla riduzione dei consumi energetici, viene dalla riduzione della domanda. E questo, se ci pensate, è un tema che oggi è risuonato molte volte, non a livello di energia, ma a livello di materiali, di materia, di flussi di materia. Il punto numero uno è proviamo a ridisegnare i sistemi a monte o a riprogettare gli oggetti a monte in modo da usare meno materia e meno energia. Questo deve essere il focus principale, perché è quello che in generale ha più impatto di tutto. Io però oggi sono stato chiamato qui a parlare di un'altra cosa, una cosa leggermente diversa, e cioè a parlare dell'impatto che possono avere le energie rinnovabili. E siamo fortunati, il numero due in termini numerici per impatto, sono proprio le rinnovabili. E quindi mi concentrerò primariamente su questo per il tempo che mi rimane. La buona notizia è che le rinnovabili, che mettiamola, a parte qualche eccezione, non mi metto a discutere su questo, ma quasi tutte le rinnovabili sono di origine solare. Per inciso anche le fonti fossili sono di origine solare, ma insomma di questo non ne parliamo. Le rinnovabili sono quasi tutte di origine solare e la cosa buona è che di sole ne abbiamo ben più che a sufficienza. C'è un classico numero che si riporta. In un'ora il sole irraggia energia sufficiente sulla Terra per sostenere, teoricamente, le attività umane per un intero anno. Allora non è un problema di disponibilità, ma è un problema di come raccogliamo efficientemente questa energia, come la utilizziamo possibilmente subito e in loco e come eventualmente stocchiamo quella che non siamo in grado di utilizzare in questo modo. Buona notizia è ancora una volta che tutte le tecnologie, lo diceva Paolo Bevilacqua per un'altra, diciamo per le sue cose, ma anche nel caso dell'energia le tecnologie ci sono. Io non mi soffermerò a descrivere le varie tecnologie, le conoscete, ma dirò qualcosa sul wind power e photovoltaics. Giusto per avere un occhio sui numeri, se noi guardiamo più o meno quello che sta succedendo oggi, è leggermente migliore, questi sono gli ultimi dati ufficiali disponibili, sta per uscire il nuovo, per cui attendiamo che i numeri ci darà, però l'idea è che più o meno un quinto dell'energia totale utilizzata oggi è da fonti rinnovabili di varia natura, in forte crescita, e soprattutto quello che rincuora è il fatto che gran parte degli investimenti in new power capacity, quindi in nuova disponibilità di energia, sono effettivamente su energie rinnovabili. Se guardiamo poi nello specifico alla quantità di energia rinnovabile, nella quota elettrica della nostra necessità di energia, vediamo che è oltre a un quarto, è in forte crescita. Quando parliamo di rinnovabili, molto spesso l'equazione è effettivamente con l'elettricità, però dobbiamo ricordarci, e questo è importante, che l'elettricità, se vi ricordate l'energy supply chain che vi ho mostrato, è solo una frazione dell'energia totale. Quindi risolvere il problema dell'elettricità con le rinnovabili risolve in realtà solo una frazione. Quindi i temi che sono stati toccati oggi, anche relativi al biogas, per esempio, ai biocombustibili per il settore trasporti, che vale per un quarto, in alcuni casi un terzo, dipende dall'economia nazionale, è importantissimo. Però lasciatemi concentrare sul tema delle rinnovabili nel campo elettrico. Ci sono un po' di dati, c'è una fortissima disomogeneità nel modo in cui viene prodotta energia elettrica nei vari paesi. Vedete, paesi come Canada, Brasile o i paesi nordici producono la loro elettricità, gran parte attraverso le risorse rinnovabili. L'Italia non è male, l'Italia produce quasi il 40% della sua quota elettrica con le rinnovabili. Un'osservazione che facciamo è che la quota elettrica in generale sta aumentando, cioè produciamo sempre di più energia attraverso l'elettricità. Cioè utilizziamo l'elettricità come vettore sempre di più. E ci sono varie ragioni. Una che a me piace dire è che molte delle rinnovabili, che noi stiamo spingendo, sono di natura prettamente elettriche. È molto facile rendere elettrico, cioè produrre energia elettrica attraverso le rinnovabili. Sono quasi naturalmente elettriche. Si pensi per esempio al fotovoltaico. Un altro fattore che spinge la penetrazione dell'elettricità è che un miliardo e tre di persone non hanno accesso all'elettricità. E questo è un fattore di riduzione della qualità della vita notevole. Non so perché mi è partita questa, però intanto la commento lo stesso. E' interessante dire che l'elettricità, con l'avvento delle fonti rinnovabili, passerà, il sistema elettrico dovrà passare per forza da una situazione lineare, d'accordo, di distribuzione dell'energia elettrica, a una situazione complessa, a rete. Questo è un altro link interessante al tema della circolarità in ambito energetico. Dobbiamo completamente ripensare i sistemi, dobbiamo completamente ripensare i modelli, perché questo nuovo tipo di sistema elettrico ci pone delle nuove sfide. E l'altro fattore che spinge l'elettricità è il fatto che la mobilità elettrica si sta affacciando. E' interessante, insomma, questi sono i dati del numero di automobili elettriche in circolazione, in forte crescita, i dati del 2018 sono quasi, insomma, sono sullo stesso trend. La cosa è molto interessante a livello di redesign del sistema energetico, in particolare quello elettrico, perché se ci pensate, un'auto elettrica o anche un'auto a idrogeno, non sono altro che dei sistemi di stoccaggio mobile. Se ne parlava prima, le automobili tipicamente stanno ferme il 5-10% del tempo, quando abbiamo un car sharing abbiamo 40% del tempo, o 50% del tempo. Allora avere lì questo oggetto, che di fatto è una batteria mobile fermo per un po', ci consente di ripensare il sistema energetico utilizzando il sistema di mobilità anche come sistema di stoccaggio per l'energia elettrica. Il che ci viene incontro per la problematica che si portano dietro le rinnovabili e che è la intermittenza. Molti dicono, ma le rinnovabili sono intermittenti, quindi come faccio a ridisegnare il sistema elettrico? Ecco, un modo interessante è quello di integrarlo col sistema di mobilità. Questa è una delle nuove visioni che ci sono all'orizzonte. In effetti l'elettricità, adesso guardando ai numeri io vi ho dato un po' di fattori, penetra rapidamente nel mercato dell'energia e i maggiori contributori sono vento e generazione da fotovoltaico. Guardate, l'Unione Europea è leader in questo campo e le motivazioni per cui c'è una così forte penetrazione di fotovoltaico e vento è che i costi si stanno riducendo rapidamente. In realtà non si sa se questo sia l'uovo o la gallina perché potrebbe essere sia la causa che l'effetto. Questo lo salto perché non ho il tempo di raccontarvi queste cose. Voglio solo dirvi, così vado verso pian pianino le conclusioni, che questo sistema che noi abbiamo ora in qualche maniera va ridisegnato. Va ridisegnato pensando ad avere delle fonti che siano essenzialmente rinnovabili di origine solare, dei sistemi di distribuzione e stoccaggio adeguati e riprogettati, diciamo, per accogliere questo tipo di fonti e soprattutto un uso intelligente dell'energia. Allora, come vi ho già anticipato, la buona notizia è che le tecnologie ci sono per fare questo. Allora, come valutiamo le tecnologie? Qui volevo fare un... ho inserito in realtà un po' all'ultimo questa slide perché volevo fare un parallelo con quello di cui aveva parlato ancora una volta il professor Reini, cioè il costo exergetico unitario. In realtà oggi si usa nell'ambito energetico, anzi, in ambiti più illuminati energetici, si usano alcuni indicatori, uno di questi è l'eroe, cioè un indicatore di quanta energia io investo per unità di energia che estraggo. Allora, se voglio veramente valutare un sistema energetico sul lungo termine, devo andare a vedere questo oggetto, esattamente come si fa per un materiale. Allora, vedete, non tutti questi numeri sono molto favorevoli. Quando andiamo qua sotto, sostanzialmente, abbiamo dei sistemi energetici per cui dobbiamo spendere troppo per ottenere unità di energia in uscita. Però attenzione, non tutti i sistemi sono uguali. Il fotovoltaico sembra essere abbastanza in basso, ma sta recuperando molto. Quello che è interessante è vedere il percorso del petrolio. Per esempio, il petrolio nel 1970 aveva un eroei di 30, oggi è molto più difficile estrarlo, ed ecco che l'eroei crolla negli ultimi anni. Spendo proprio un paio di minuti a dirvi giusto due cose sul fotovoltaico. Un fotovoltaico considerato come conversione diretta di energia solare in energia elettrica, e, piccolo commento semi-politico, vi ricordo che il fuel, qui in questo caso, è gratuito. Quindi, una volta che ho il sistema, poi non mi preoccupo più dei fotoni, perché i fotoni sono ancora gratis, non per molto, sembra. Questo ha tutta una serie di conseguenze, fra l'altro, sulle considerazioni, sull'efficienza, ma insomma, magari ne parliamo a valle della fine dell'intervento. Il fotovoltaico lo conosciamo tutti, lo vediamo, beh, insomma, sui grandi campi in Puglia, vicino all'autostrada, ma sulle case ci sono varie tecnologie, un po' più design, looking, un po' verdi, se vogliamo mimetizzarle, nei giardini. Insomma, c'è un po' di tutto, mimetizzate nei coppi, nei tetti, possono portarsi dietro pubblicità, possono essere oggetti di design integrato, o possono essere oggetti d'arte. O, l'abbiamo visto prima, possono essere dei nuovi parcheggi per la mobilità elettrica. Quello che abbiamo già visto prima, ma si traduce anche a livello di sistemi, di sistemi fotovoltaici, vedete, è una drastica riduzione del prezzo. Questo è il prezzo turnkey, proprio quello che un utente finale paga per avere un impianto funzionante. Vedete, negli ultimi anni, in realtà, qui questi dati si fermano nel 2013, che è l'ultimo, diciamo, report interessante da questo punto di vista, perché da questo punto in poi, praticamente, i prezzi sono appiattiti. questo consente all'utente finale di essere in quello che viene chiamato il regime di grid parity. Non so se lo sapete, oggi in Italia, per il fotovoltaico, siamo in regime di grid parity, senza incentivi, se uno si compra un impianto fotovoltaico, in condizioni mediamente corrette, non devo metterlo a nord, dietro la casa, in giardino, insomma, se lo espongo correttamente, mi conviene fare un impianto fotovoltaico perché nel, diciamo, nei 25-30 anni minimi di durata, questi anni fanno sì che il costo dell'energia da impianto fotovoltaico sia inferiore al costo dell'energia che io compro dalla rete elettrica. Questo è grid parity, che è una considerazione che l'utente finale fa. Ma in alcuni posti, esempio Sicilia, oggi, si arriva al regime di fuel parity, in cui il costo di produzione dell'energia elettrica da fotovoltaico è pari o inferiore al costo di produzione dell'energia elettrica da carbone o petrolio, che si usa pochissimo, ma diciamo soprattutto carbone e gas. D'accordo? Quindi grid parity e fuel parity sono questi concetti che stanno avanzando rapidamente, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. E questa slide in realtà riassume questo, ci dice quali sono i paesi oggi in grid parity rispetto a quelli che ancora non lo sono. Allora, dove siamo oggi in termini di collocazione diciamo tecnico ed economica? Cioè, quando io vado a comprare un impianto fotovoltaico, che cosa mi interessa? mi interessa quanto costa al metro quadro, ma mi interessa anche la sua efficienza. In altre parole, mi interessa quanto costa per unità di energia prodotta oppure per unità di potenza disponibile. Le due cose sono strettamente correlate. Allora, quello che vedo è che c'è una linea magica qui che rappresenta proprio è la grid parity. Quelli, le tecnologie che stanno da questa parte non sono convenienti, le tecnologie che stanno da questa parte sono molto convenienti. Allora, le tecnologie fino a pochi anni fa tutte stavano in questo settore. Negli ultimi anni si sono spostate rapidamente verso il settore di grid parity, ma l'osservazione è che non si stanno schiodando tanto. Per cui, un po' di margine per ricerca, per nuovi materiali, per nuove tecnologie, per entrare più decisamente in questo ambito di convenienza economica effettivamente continua ad essere molto molto importante e strategico. Ora, l'ultimo link che volevo fare con il tema dell'economia circolare è rappresentato in questo grafico che riguarda appunto il fotovoltaico in maniera diretta. Questo grafico mostra il concetto di breeding, cioè il concetto di utilizzare per la produzione dei moduli fotovoltaici o in generale per la produzione di elementi fotovoltaici utilizzare energia proveniente dal fotovoltaico stesso prodotto in loco. Allora, quando si fa questo, ovviamente le emissioni di gas, serra in generale, si riducono drasticamente secondo modelli che è possibile ricostruire. allora questo è un esempio per esempio che trovo interessante di circolarità all'interno del sistema energetico emissioni CO2 e che ancora una volta ricalca molto quello che aveva detto il professor Rini qualche intervento fa. Allora, io ho fatto veramente una cavalcata molto rapida ma eventualmente sono a disposizione per qualsiasi domanda. il riciclo dei moduli e la città di nostra come è la possibilità di fare un'intervento di stampa e moduli che non parte di ancora questa cosa? Allora, ci sono già ben brevettati o comunque diciamo ben definiti e in alcuni casi brevettati dei modelli di riciclo, dei processi di riciclo. Ovviamente in realtà vengono utilizzati ancora poco, non è partito il mercato del riciclo perché dovete pensare che gli impianti che sono stati installati ancora negli anni 90 sono più o meno funzionanti cioè si sta si sta dismettendo poco ancora il fotovoltaico. Detto questo, a seconda della tecnologia ci sono diversi processi che sono già ben definiti per il recupero dei materiali laddove possibile. Per il fotovoltaico c'è per il fotovoltaico a base di silicio c'è tipicamente un disassemblamento e un recupero di silicio. Non è banale però, è abbastanza costoso, è abbastanza costoso ancora. Però è difficile giudicare in questa fase molto diciamo embrionale dei di questi processi perché non sono ancora partite le economie di scala su questi processi qui. Quindi finché non partono non siamo in grado veramente di di proiettare dove andranno i costi. In questo momento è una cosa che uno deve tenere da conto. Volevo fare ancora un esempio. Questa tecnologia qui quella del tellururicadio per esempio c'è un praticamente un unico produttore che è la Fersolar che si è brevettata il proprio sistema di riciclo dei dei moduli che è molto molto grossolano peraltro di fatto prevede una frantumazione del vetro che ha sopra il film sottile è una separazione per via chimica ma quello che volevo dire è che in realtà il all'interno del costo del modulo è già previsto teoricamente poi vedremo come andranno a finire le cose però è già previsto il costo del riciclo per cui l'utente compra un euro di quel due euro di quel costo lì vanno teoricamente a coprire la quota riciclo a fine vita si l'azienda si impegna a recuperare però è una roba babbo morto perché bisognerà vedere dovevano finire quei soldi esatto soprattutto queste tecnologie a fin sottile bisogna vedere se ci saranno ancora adesso non sono informato sulle policy dei nuovi produttori di moduli al silicio però insomma si cerca di andare in quella direzione di responsabilizzare il produttore bene grazie grazie Vanni mi dispiace che ti ho trattenuto più del previsto forse ringrazio tutti quelli che sono rimasti fino alla fine in modo particolare ma anche tutti quelli che sono stati presenti durante questa lunga giornata che a mio avviso è stata veramente interessante voglio ringraziare ancora una volta i nostri sponsor brevissimamente la situazione dell'industriale che ci ha ospitato il consorzio universitario di Pordenone che è stato partner di questa iniziativa il dipartimento di ingegneria e architettura che è la struttura alla quale appartengo io il circuito del festival della sostenibilità il circuito della RUSS l'associazione termotecnica italiana che ci ha garantito una sponsorizzazione l'ordine degli ingegneri che credo a questo punto sia stato più che soddisfatto di quello che ha sentito credo di aver citato tutti se mi sono dimenticato se mi sono dimenticato qualcuno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti